Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Questa mattina iniziamo senza la nostra usuale consueta copertina perché dobbiamo dare una notizia. C'è molta preoccupazione per Vittorio Cecchigori, l'ex produttore cinematografico. È stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Siamo collegati con Giovanna Savini. Ciao Giovanna, buongiorno proprio dal Gemelli. E qui Angelo Perrone, una delle persone che in questi anni lo ha seguito sia a livello professionale che anche a livello umano. Buongiorno Angelo, grazie di essere qui. Allora Giovanna, possiamo dare noi questa mattina la notizia a te? Sì, buongiorno Eleonora. È una notizia che è rimasta riservata fino a qualche ora fa. A inizio settimana Vittorio Cecchigori è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva qui al Policlinico Gemelli per un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dal Policlinico per il momento c'è massimo riservo. Da indiscrizioni sappiamo che c'è un quadro di instabilità clinica molto serio. Naturalmente Cecchigori è continuamente monitorato ed è seguito dal professor Francesco Landi che lo segue da anni. Già nel 2017 Vittorio Cecchigori era stato ricoverato d'urgenza proprio presso la terapia intensiva del Gemelli per un'ischemia cerebrale. Era stato un giorno intero in coma farmacologico, poi trasferito in terapia intensiva per diversi giorni. Quello era stato un momento molto importante perché proprio in virtù dell'aggravarsi delle sue condizioni cliniche c'era stato poi un riavvicinamento con la sua ex moglie Rita Rusic che in quella circostanza gli era stata molto vicina e accanto. Condizioni cliniche che poi si erano nuovamente aggravate nel gennaio del 2000. Giovanna adesso ripercorriamo tutta la storia, però raccontami l'ultima ora, perdonami. Quando sarebbe stato ricoverato Vittorio Cecchigori? Queste sono delle indiscrezioni che ci arrivano naturalmente non confermate. Dovrebbe essere stato ricoverato probabilmente a inizio settimana, quindi tra domenica sera e lunedì mattina per un aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Come tu stessa l'hai intervistato un anno fa, le condizioni anche cliniche di Cecchigori erano peggiorate negli ultimi tempi, aveva dei problemi respiratori in virtù dei quali aveva poi anche ottenuto la sospensione della pena pena a 8 anni e 5 mesi a cui era stato condannato il 19 febbraio del 2020 per bancarotta fraudolenta per il crack della Safi nella casa di produzione cinematografica un crack da 24 milioni di euro. Appunto Cecchigori scontava questa pena in un regime di detenzione domiciliare aveva ottenuto poi questa sospensione della pena e come ci aveva detto proprio un anno fa a storie italiane sperava, sperava, spera nella grazia del Presidente della Repubblica Mattarella il suo grande sogno è quello di poter magari raggiungere la figlia Vittoria a Miami e quindi in virtù di questa grazia sperando appunto di poterlo ottenere il prima possibile. adesso la sua situazione è naturalmente monitorata dai medici che lo seguono da anni noi seguiremo, vi daremo tutte le notizie che arriveranno nelle prossime ore naturalmente per il momento abbiamo cercato di sentire il Policlinico Gemelli ma c'è il riservo più assoluto e quindi tutte le notizie che ci arrivano ci arrivano appunto da indiscrezioni, da fonti diciamo di amici vicini a Cecchigori che appunto negli ultimi giorni è stato nuovamente ricoverato qui al Policlinico Gemelli sette anni fa nel 2017 c'era stato un ricovero molto importante, molto serio era stato già in terapia intensiva, un giorno intero in coma farmacologico per un'ischemia cerebrale, problemi cerebrovascolari e problemi allora Giovanna abbiamo problemi con lo zaino con il collegamento tecnico comunque stiamo dando questa notizia vedo anche Roberto Alessi collegato Roberto la stai sapendo di fatto da noi perché diamo la notizia attraverso Angelo Perrone che è qui con me e la nostra Giovanna Savini la nostra giornalista lì davanti alla Policlinico Gemelli di Roma sarebbe in terapia intensiva ci sarebbero stati momenti molto difficili in cui si è temuto il peggio Angelo raccontaci quello che è successo soprattutto sto parlando di ieri mattina e poi un miglioramento forse delle situazioni o comunque stabili quello che è successo in realtà è che Rita Rusic si era sentita con il professor Landi perché Vittorio fine settimana aveva accusato dei malesseri o degli esami diciamo a livello di battiti del cuore molto bassi e quindi avevano preventivato un ricovero lunedì per accertamenti respiratori quindi Vittorio è andato già organizzato al Gemelli lunedì quello che non era previsto è che poi nella notte tra lunedì e martedì mattina ci fosse una crisi respiratoria che appunto ha necessitato il ricovero il trasferimento di reparto e quindi è stato portato dal dottor Greco in terapia intensiva quindi la fortuna era che lui stava già lì ricoverato al Gemelli per accertamenti certo nessuno si aspettava questo aggravamento della situazione e poi da ieri è entrato in terapia intensiva nel pomeriggio si è avuto qualche avvisaglia di miglioramento ma la situazione è ancora molto molto delicata e qui mi rimetto poi ai medici a Landi e a Grieco che stanno decidendo di farlo rimanere in terapia intensiva piuttosto che no il problema sarebbe stato ancora al cuore sì, insufficienza respiratoria è stato il problema che si è accusato durante il ricovero ecco perché poi è stato trasferito in terapia intensiva per cui l'avevate portato per il ricovero perché non stava benissimo sì, perché il saturimetro era molto basso e quindi Landi ha consigliato il ricovero e Rita come sempre è la persona che le sta più accanto a livello proprio fisico e a livello diciamo tra virgolette medico e prontamente anche questa volta ha organizzato in modo tale che lui fosse ricoverato lunedì e poi certo non si aspettava ieri mattina prima Mario e poi Rita di ricevere la telefonata che era stato trasferito nella terapia intensiva e li invitavano ad andare perché la situazione in quel momento ossia ieri mattino è apparsa molto grave pari alla situazione di appunto come diceva la tua inviata di sette anni fa allora sette anni fa fra l'altro io l'ho incontrato pochi mesi fa Vittorio l'ho intervistato fra poco manderò la lunga intervista che abbiamo fatto perché lui sapete per tutti i suoi guai giudiziari e vicende giudiziarie era in attesa aveva chiesto la grazia ma ritorniamo a quel sabato italiano quando Rita e Vittorio poi arrivano forse per la prima volta insieme in un'intervista proprio a Tu Vertu perché si ricongiungono perché si ritrovano a causa della malattia di Vittorio dove stava morendo e questo bisogna dirlo perché noi eravamo là abbiamo vissuto attimo dopo attimo tutto l'accaduto e finalmente ritornano insieme in televisione dopo veramente tantissimi anni credo più di una decina d'anni allora vediamolo adesso arrivo da Roberto Alessi sentite io il cuore mi funziona bene però la crisi cardiaca c'è stata hai avuto una crisi respiratoria con grandi complicazioni poi io il giorno di Natale per me non avere la famiglia il giorno di Natale è sempre stato un po' sofferto con maggior ragione perché io 15 giorni prima avevo cercato a tutti i costi di parlare con Mario allora non è che durante il periodo d'estate io ho cercato di chiamare con Mario cioè a un certo punto evidentemente sentivo che non sarei stato bene è come se questo è un segnale perché quando tu in realtà dopo con il senno di voi risali ma però l'indizio sentivi che il tuo corpo si stava malando c'è stata una crisi respiratoria che poi ha causato un problema cardiaco diciamo sì è o meno così dicevi hai cercato Mario hai cercato Mario e lui mi aveva detto alla fine ci avevo parlato che prima non mi parlava perché stava a Londra no? lui stava a Londra sì però stava a Miami quando l'hai chiamata eravamo tutti insieme neanche lo sapevo comunque poi dopo mi ha detto vengo 15 giorni dopo Natale va bene dico però vieni vieni presto gli ho detto vieni vieni presto vieni presto sì e poi è successo quello e poi è successo allora Roberto Alessi praticamente la notizia è in diretta in questa mattina a Storie Italiane ma sai Eleonora mi cogli veramente di sorprendere perché non sapevo minimamente di questa cosa e lo aprendo proprio dalla tua trasmissione in questo momento tra l'altro ho visto poco più di una settimana fa Rita Rusic e sembrava che fosse una situazione più che tranquilla le avevo chiesto a casa tutto bene e quando dico a casa non dico la stessa casa perché Rita e Vittorio hanno un rapporto da una parte persino affascinante perché anche in questo momento Rita lo sta salvando lo sta curando è vicina ai medici e tu sai quanto è importante l'amore di chi ti ha amato e di chi ancora ti ama per guarire una persona nello stesso tempo fino a una settimana fa ancora erano anche in ballo tra avvocati e controavvocati per questioni di quadri di contestazioni passate e non ancora risolte e mi colpisce sia come giornalista amico perché Vittorio Cecchigori come Contè giornalista e a capo di storie italiane è sempre stata una persona meravigliosa ma anche come italiano perché ricordiamo che Cecchigori come produttore ha portato a noi italiani ben tre premi Oscar La vita è bella un nome per tutti cioè stiamo parlando quindi di un monumento del nostro cinema che purtroppo in tanti casi anche da parte di certi critici italiani è stato sottovalutato e abbiamo tra l'altro lì con te il nostro amico Angelo Perrone che è testimone di questo incredibile patrimonio culturale che lui ha regalato all'Italia Dunque adesso avremo un'altra notizia per conto Vittorio Cecchigori attraverso le parole di Angelo Perrone perché io a maggio ho incontrato Vittorio fra l'altro non stava già benissimo con la salute motivo per cui era agli arresti domiciliari e chiedeva la grazia ora daremo proprio su in questo senso su questo tema daremo un'altra notizia nel frattempo come vedete la nostra Giovanna Savini collegata dall'ospedale Gemelli di Roma ci sta informando sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchigori sono stati momenti attimi di grande paura di grande tensione ora la situazione sembra stabile questa mattina credo fra poco perché solitamente è così succede così daranno anche altre informazioni medici il professor Landi che tanto lo ha seguito fra l'altro il professor Landi è un caro amico dunque vediamo quello che aveva dichiarato e come stava Vittorio Cecchigori qualche mese fa quando l'ho intervistato per Storie di Sera senti Vittorio c'è stata anche una lettera di richiesta per te di aiuto da parte di tanti amici i tuoi amici del cinema ne cito uno Pupiavati che cosa hanno scritto in questa lettera e che cosa chiedono per te per l'altro Pupiavati non ci ho neanche mai lavorato molto carino sempre c'è solo una lettera di conforto degli autori nei riguardi che poi servita credo anche per la grazia adesso non vorrei sbagliare chi è che senti di loro Battantuono Benigni ti chiamano ogni tanto li hai sentiti ma no un po' Verdone lo vedo un pochino Benigni l'ho visto ogni altro Verdone viene e così anche qualche regista tornatore c'è stato qualcuno che ti ha proprio messo da parte ma sai cosa questo è un mondo è un mondo che inevitabilmente nel momento in cui se passa il momento poi dopo ovviamente dipende anche quando conti arrivano tutti quando non conti più nulla non c'è più nessuno dipende anche dal carattere con il mio carattere e che io non vado a cercare nessuno è più difficile senti Vittorio secondo te sta grazie arriva o no non lo so non c'è penso perché se c'è penso mi permetterebbe di poter andare a trovare Vittoria a Miami vorresti andarci da Vittoria a Miami lo desideri tanto vuoi vederla vuoi raccontarla e spiegarle quello che provi sì anche come è stato con Mario perché con Mario ho avuto la possibilità e con Vittoria no beh un po' come padre magari sei stato un padre assente forse hai sbagliato hai fatto degli sbagli come papà fatto degli sbagli secondo me è stato tutto condizionato da quello che è successo a me quello che è successo a me ha fatto sì che la vita si è ha perso la sua la sua rutta un rapporto quello di Vittorio con Mario e Vittoria che hanno ricucito in parte quando è successo il fatto appunto sette anni fa con Mario assolutamente sì erano anni pure che non si parlava con Mario con Vittoria purtroppo anche la lontananza da Miami e anche per questioni scelte proprio di Vittoria insomma questo di avvicinamento ad oggi ancora non c'è stato allora dicevamo per quanto riguarda la grazia Angelo che lui aveva provato a chiedere anche attraverso questa lettera di tanti amici persone che lo hanno sostenuto che hanno fatto il cinema con lui per tanti anni come è andata a finire questa richiesta tu puoi dirlo oggi in diretta la notizia di qualche giorno fa gli è stata negata sì sì gli è stata negata quindi è stata negata la grazia sì non è stata il suo cruccio più importante della grazia come diceva nella tua intervista che ricordiamo è l'ultima intervista che lui ha fatto in assoluto era il fatto di poter andare a trovare Vittoria a Miami quindi anche questo dispiacere sai poi come lo vedi anche in questa intervista fisicamente non stava bene e se pensi che ancora era adesso negli ultimi giorni era anche ancora di più appesantito insomma tutto questo poi al cuore non fa proprio bene allora Giovanna dovremmo avere informazioni fra l'altro il bollettino medico da lì dal Gemelli fra un po' fra quanta che potremmo dare delle notizie sì il bollettino medico dovrebbe arrivare nel corso della giornata per il momento c'è massimo riservo sappiamo da indiscrezioni che la notte è trascorsa in modo tranquillo ma il quadro permane comunque un quadro di instabilità clinica c'è grande appreensione naturalmente questo ricovero improvviso nei giorni scorsi di Vittorio Cecchigori che in questo momento si trova appunto in terapia intensiva un nuovo ricovero dopo quello gravissimo che c'era stato sette anni fa durante il quale però insomma Vittorio Cecchigori si era riavvicinato all'ex moglie Rita Rusic che anche in queste ore Eleonora naturalmente sta cercando di seguire l'evoluzione delle sue condizioni cliniche ed è accanto a Vittorio in contatto costante con i medici dunque vediamo quando ha parlato di quello che gli era successo eravamo insieme mi ricordo Angelo era praticamente giorno di Natale e poi gli altri giorni che sono arrivati di preoccupazione quando lui era stato ricoverato proprio lì dove siamo in diretta questa mattina al Polinchico Gemelli di Roma e dobbiamo ricordare che più o meno la situazione è molto simile adesso rispetto a quanto accaduto sette anni fa sette anni fa esatti per cui ritorniamo con lo stesso problema di salute ripeto come abbiamo scritto sui nostri banner questa mattina nel nostro monitor il quadro clinico è considerato serio molto serio ieri ci sono stati momenti di grande preoccupazione ovviamente mandiamo un grande abbraccio a tutta la famiglia soprattutto a Rita Rita Rusici che è veramente una donna straordinaria fortissima che sta accanto al suo Vittorio e fra l'altro Angelo fra poco ci darà anche un'altra notizia intanto ritorniamo al racconto di Vittorio Cecchigori e di quel 2017 parli di Rita dici che i rapporti appunto si sono tranquillizzati io c'ero quando tu sei stato male anni fa quando sei finito in ospedale quando sei finito rianimazione e lei era arrivata da Miami credo ci fosse anche Mario quel giorno e veramente c'è stata grande preoccupazione perché diciamoci la verità Vittorio lì hai rischiato la vita il tuo cuore non aveva retto lì non si è mai saputo bene ma comunque soffico questo respiro un pochino a fatica respiri molto a fatica un pochino a fatica respiro quando ti sei risvegliato su quel letto e li hai visti lì hai visto Rita non ci parlavi da tanto tempo da tanti anni credo otto anni non ci parlavi nemmeno che ricordi hai che cosa è bello Mario ho rivisto Mario è stato ho capito che vivevo ho capito che ero ancora vivo rivedendo Mario ho capito che ero ancora vivo guarda che emozionarsi non è sbagliato perché ti vedo parlare di Mario e ti vedo sorridere questa è una cosa molto bella sì sì infatti credo che l'amore fino all'ultimo giorno della vita se tu provi dell'amore l'amore ti tiene in vita non provare dell'amore è terribile quindi adesso io provo ancora dell'amore e l'amore è importante per i tuoi figli anche se c'è questa cosa di vittoria però l'amore per i tuoi figli ti tiene in vita sì nonostante tu spero di vedere vittoria prima o poi di vedere vittoria presto ecco qua dunque dicevamo le persone intorno sì perché poi sai qual è il problema Eleonora come allora sette anni fa anche oggi è molto importante chi gli sta intorno nel quotidiano no? perché per esempio chi gli è stato intorno beh perché sai che c'è che poi Rita per quanto le stia vicino per carità lui la chiama tutti i giorni anche di notte ma non soltanto quando ha un problema fisico ma anche per condividere quello che ha fatto durante la giornata e quindi lei nel quotidiano sa però certo fisicamente poi lei non è che sta lì a casa con Vittorio c'è questa persona Colin di fiducia che è una persona un ragazzo che gli vuole bene ma l'importanza di queste persone soprattutto a quest'età è di chi si circondano e di chi gli sta vicino perché devono volere assolutamente il suo bene e soprattutto devono essere poi pronti nell'emergenza a reagire nel modo giusto l'impressione che mi stai dando Angelo è che qualcuno intorno a lui non certo le persone di famiglia perché Rita veramente posso testimoniare con mano gli vuole un bene incredibile anche al di là diciamo di quello che uno si può aspettare però le persone che gli sono state intorno ultimamente possono avergli creato dei problemi importanti anche magari capito queste persone alla loro età perché Vittorio ricordiamola ad aprile fa 82 anni sono molto sensibili quindi si affezionano anche soprattutto agente sbagliata che magari gli sta vicino nel quotidiano e che non proprio sono pronti a volere il suo bene e io mi ricordo anche in questi anni c'è questo medico De Luca che saltuariamente è stato anche vicino a Vittorio nel suo piccolo cioè tutti vogliamo bene il bene di Vittorio e gli vuole bene gli altri non lo so capito quindi c'è da domandarsi a volte diciamo che il riferimento è proprio all'ultimo periodo sì capito assolutamente queste persone anche De Luca poi gli è stato invece molto vicino molto vicino assolutamente lo va a trovare si preoccupa e gli ha voluto bene e poi soprattutto ecco questa è la parola chiave persone disinteressate a lui ecco perché è fondamentale cosa che non è successo io non sono interessato a lui a livello economico Rita tanto meno cioè le persone che gli stanno vicino capito Roberto cosa sta dicendo Angelo che forse non può dire troppo perché Angelo ovviamente non può dire molto di più però nell'ultimo periodo c'è stato diciamo forse una serie di persone sono state intorno che non non gli hanno voluto sì poi per carità ha dei validissimi diciamolo ha pure dei validissimi avvocati però queste persone parliamoci chiaro non è che vivono né il quotidiano che assistono Vittorio dalla mattina quando si sveglia alla sera quando va a dormire Alessi Angelo ha toccato un punto importantissimo io personalmente apprezzo molto nel carattere di una persona l'ingenuità perché dimostra di essere di fronte ad un'anima pulita io credo che Cecchigori sia un'anima pulita ma molto molto ingenuo e questo non solo oggi io so a chi si riferisce Angelo e oggettivamente è anche molto facile introdursi nella vita personale di Cecchigori in questo momento se si hanno degli interessi non perfettamente in luce ma anche in passato Angelo faceva riferimento a questa grazia che non è stata concessa e non entro nel merito perché è ovvio c'è anche una sentenza della Cassazione di condanna definitiva per bancarotta fraudolenta però Cecchigori è arrivato a quei problemi economici con un ammanco credo di 24 milioni di euro per la sua infinita ingenuità ha avuto intorno persone che si sono mosse in maniera non estremamente corretta però forse stava succedendo ancora adesso una cosa molto simile sembra che insomma poi la famiglia si è intervenuta il problema adesso che c'è un grossissimo problema di salute ripeto mandiamo un grande abbraccio a Rita speriamo che Vittorio si riprenda presto anche perché Vittorio è un amico e che questa situazione questo quadro clinico migliori la nostra Giovanna Savini appena avrà delle notizie ci dirà fra l'altro quella storia che tu stavi raccontando noi l'abbiamo descritta così mandiamo il servizio credo intorno ma fra un po' ci dici fra quanto arriverà il bollettino medico aspetta Giovanna adesso arrivo arrivo subito da te perché forse hai delle notizie guardate la mia vita è stata ed è tutto un film classe 1942 Vittorio Cecchigori nasce a Firenze ma si trasferisce nella capitale già durante l'adolescenza per fare da assistente a papà Mario che da autista delle star aveva creato dal nulla la Cecchigori Group una giovinezza spensierata quella di Vittorio da ricco playboy si dice talvolta un po' spaccone ma anche che gran sognatore accanto al padre macina set film produzioni internazionali ed è proprio sul set di un film Asso nel 1981 con Celentano che Vittorio incontra l'attrice Rita Rusic il matrimonio nell'83 due figli Vittoria e Marietto nel 1993 alla morte di suo padre Vittorio diventa presidente ed è con lui che la società si amplia i giganti che passano dalla sua scuderia sono icone del nostro cinema da Gasman a Vanzina e poi Scola a Monicelli De Sica fino a Tornatore Dario Argento i suoi film sbancano il botteghino sono gli anni di Bisbetico Domato mia moglie una strega il piccolo diavolo Johnny Stecchino nel 91 vince il suo primo Oscar con il film Mediterraneo di Salvatores e con lui il cinema italiano torna in America da protagonista 300 milioni di spettatori dall'Italia agli Stati Uniti l'avventura politica del 94 non gli fa perdere la rotta del cinema proverà a far riposare Troisi durante le riprese del postino i suoi problemi di cuore forse gli ricordano quelli di papà ma all'indomani della morte di Massimo quel film gli vale la candidatura all'Oscar come miglior film con Benigni e La vita è bella di Oscar ne porterà a casa ben tre grazie alla moglie che ormai si destreggia anche nella casa cinematografica di famiglia scopre Leonardo Pieraccioni manca un giovane Virzi e come se non bastasse da diciassettesimo presidente della Fiorentina conclude l'ingaggio del calciatore argentino Battistuta e al grido di Batigol vince Coppa Italia e Supercoppa nel 96 eppure calcio e cinema non gli bastano così l'impero acquista emittenti televisive pay tv e come confesserà lui stesso non trova la forza di blindarlo quell'impero e si avvia verso il 2001 quando come dirà all'improvviso il film della sua vita si farà brutto bollettino medico ci dice sia Angelo Perrone che la nostra Giovanna Savini Giovanna alle 14 dovrebbero raccontare dire di più di come sta Vittorio Giovanna Sì Eleonora appunto nel primo pomeriggio intorno alle 14 ci sarà un bollettino medico avremo delle notizie ufficiali sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchigori che lo abbiamo detto è ricoverato in terapia intensiva qui al Policlinico Gemelli per una insufficienza respiratoria per un aggravarsi delle sue condizioni di salute erano previsti dei controlli lunedì proprio qui al Policlinico Gemelli e la situazione ieri in particolare è diventata critica la notizia è rimasta riservata fino alle ultime ore oggi nel corso della giornata avremo delle notizie ufficiali degli ulteriori aggiornamenti naturalmente noi saremo qui e monitoreremo la situazione siamo anche in contatto con il professor Landi che appunto da anni segue anche la situazione clinica di Vittorio Cecchigori Grazie Giovanna siamo sempre collegati con te dunque Angelo ovviamente se hai delle informazioni soprattutto il professor Greco con Rita è stretto contatto lui è responsabile appunto della terapia intensiva ma adesso è un coma farmacologico cioè un coma indotto o è sveglio? almeno fino a ieri era sveglio era lucido quindi con i problemi a cuore si è ripreso ieri aveva dato accenni di ripresa però come hanno detto soprattutto loro sia Landi che Greco la situazione è molto molto delicata molto riservata e quindi ecco non bisogna tra virgolette rilassarsi grazie grazie Angelo Giovanna con te ci risentiamo dopo e anche il nostro Roberto Alessi più tardi perché nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo di Grazie.